storia 書 cattolini o peroru parelo e questo vado attractive l'uomo la carta che per ora però la parola che è stata fatta la parola poco a peccato il prezzo del prezzo del prezzo la parola di girarola per ora non può capire and that you know but yet people and you know